Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand, vi starete chiedendo che cazzo stiamo facendo in questa puntata di Istocraft, che è la puntata bonus. Praticamente abbiamo avuto un'idea insulsa, siamo in creativa ragazzi, abbiamo preso Mr. Boom Boom e l'ex azzerone TNT, quello che fa appunto il quadrato di TNT, e l'abbiamo scavato e abbiamo fatto il buco, guardate, una colonna così grande fino alla pietra madre. Aspetta, chiudo l'acqua, io un attimo qui, che è una rottura di coglioni gigantesca. Praticamente adesso noi vogliamo fare una colonna di TNT usando il Mr. Boom Boom, vi ricordate che poi l'avevo perso durante la serie, che era nello zaino, purtroppo l'avevo persa, adesso l'acqua andrà via. Adesso noi con il Mr. Boom Boom ricopriremo tutto questo di TNT fino in alto possibile ragazzi, ok? Quindi faremo una colonna di TNT insulsa, quindi rinnegando, aspetta che prendo Boom, dovrebbe essere questo qua, ok? Sì, per te, dove sei? Non so capire come farlo, Matteo, aspetta, vai via. No, è bella, vai via. Vai, sì, così va bene. Ma non vi va bene che sia lì, allora aspetta, se io faccio così, lo fa lì. Eh, così, perfetto, guarda, perfetto, ok, aspetta, devo anche aprire tutto dopo, eh? Tutto, tutto, tutto. Aspetta, eh, che copro, che andiamo in alto, ok, qua. Mr. Lova Lova Boom. Mr. Lova Lova Boom Boom Boom, insomma, tu vai su, non farti domande, quando qualcuno ci fermerà, noi ci fermeremo. Eh, lo accendiamo con l'accendino, eh? No, lo accendiamo usando l'arco di Blade, che non abbiamo fatto. Oppure lanciamo una pioggia di frecce, accendiamo più TNT alla volta, e poi boom. Ok, perfetto, andiamo su, continuiamo ad andare su, vai su, Rinegan, tu vai su. Oddio, ragazzi, quanto TNT! Ah, pensa, nel prossimo mod potremmo, nel prossimo Minecraft potremmo prendere, e far saltare in aria, i pianeti. Allora, abbiamo fatto due conti, e speriamo di averli fatti giusti. Quindi, praticamente, un boom boom è un 10x10 di TNT, quindi sono 100 TNT ogni Mr. Boom Boom. Noi ne abbiamo messi tre in fila. Ne abbiamo messi tre in fila, quindi 300, quindi 10, 10, 100, 100, 100, 300 TNT, per 256 blocchi d'altezza. Quindi, 256 blocchi d'altezza per 300 TNT, sono 76.800 TNT, una torre di 76.800 blocchi di TNT, ragazzi. Adesso, facciamo una figata, accendiamola con una roba stupida, tipo, non so, una torcia, o una levetta, facciamo una riga di pietra rosa. Basta leva! Aspetta, che devo allontanare, ma che figata, ragazzi. Guardate che figata. Non finisce più. Non posso costruire. E sta accendendo? Ma perché a me non posso costruire? Sta accendendo. Ok, ma sono l'altezza. Oh, no! Dio! Dio, no! Tutto ottico. TNT? Che figata! Oddio, forse vedo... Ok, comincio a vedere un po' il mondo. Sì, ma ti ricordo che... Dio mio! Anch'io? Eh no, vedo pian piano che sta scendendo la torre di TNT. E mi arriva uno dei TNT in faccia, tipo. Non c'è più niente qua, c'era una montagna, vi ricordo. Ecco, adesso sta esplodendo la parte quella sotto. Sì, tu puoi vedere la mini-mappa. Eh, la mini-mappa sì, sperta. A te? Oddio, è tutto una pietra. Oddio, che figata ragazzi, bellissimo. Che figata ragazzi, 77.000 TNT. Io con la zetta posso ampliarlo, ma questo è costato un buon muro. Ah sì? Sì. Con la zetta? Ah sì, anch'io. Cazzo! Eh, se abbiamo fatto parecchio disastro, eh. I blocchi rossi, di solito sono i blocchi quelli che rimangono rocchi da prendere. Ha quasi finito ragazzi, ha quasi. Sì, no, vorrei aver già finito, solo che stai lavorando. Ha quasi finito, guarda. Beh, è vero, forse ha già finito, sono 78.000 esplosioni. Sì, c'è un'acqua. C'è l'acqua. Sì, l'acqua. Guardate ragazzi che roba sua, sta ancora esplodendo tutto, è assurdo. Ha finito ragazzi. Questo è quello che... No, no, aspetta, c'è ancora qualche esplosione. Eh, sì, ha finito. Ah, ancora esplosioni. No, ha finito. Vabbè, andiamo giù. No, non ancora. Ma che figata ragazzi, guardate che cazzo di buco abbiamo fatto. Mamma mia. Ma che cos'è che esplode? Sono veniti i TNT. Guarda, oddio. Vado via da qua. Vado via da qua. Che ne dici se mettiamo 100 TNT per 500? Aspetta, anzi, dobbiamo fare più di 100 di 37.000. Dai, vieni qua da me, vieni qua da me che è un bello spiato dove metterci TNT. Stiamo costruendo il Mr. Boom Boom col TNT da 500. Dateci un po' ragazzi perché adesso dovremo costruirlo tutto. E poi lo facciamo esplodere male. Al penultimo piano Rinnegan, dai. Al penultimo piano. Comozione, promozione. Quindi ragazzi, sono 1000 qua. Perché siccome è pieno sto coso, perché non te ne sei dato un altro? No, ve lo vedete una roba. Ah, di la dinamite? No, e vai via da qui. Vai via da qui. Qua ci sono ragazzi, siccome l'abbiamo riempito anche tutto di, guardate, se non mi credete, tutto è riempito di TNT per 500 ragazzi. Abbiamo messo 1000 TNT per 500 che corrispondono a 1000 per ovviamente 500, 500.000 TNT normali contro 76.000 di prima, ok? Ok? Pronto? No. Io lo faccio esplodere? No, ero bene, stavo sento parlando di capipanata. Come ero bene? Era bene, mi ha fatto apparire dei cerchi di maiale. Troppo corto? Ma lei ha acceso l'olontanissimo. Ah, lei ha acceso l'olontanissimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Via, 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 via. Pensavo avessi mancato, cazzo. È acceso uno laterale. Non importa, tante esplodono tutti. Ok, penso che adesso mi crasha, eh? Perché se deve fare l'equivalente, ragazzi, di 500.000 TNT normali. Esatto. Prima, per farvi capire, l'attore ne aveva 76.000. No. Posa? Aspetta, aspetta, sta laggando, ragazzi. Datenne un secondo. Oddio! Sta ancora esplodendo. Sta ancora esplodendo, ragazzi, guardate, sta ancora esplodendo. Aspettiamo, aspettiamo. Ragazzi, sei impallato in questa schermata. Aspetta, riesco a muovermi ancora una volta. Guardate che cosa ci ho fatto. Ragazzi, si sta impallando ogni due secondi il computer. Dategli un secondo. Un secondo. Forse si fa un po' di crash del gioco. Rinnegan è già crashato e uscito. Sì, perché si è ripetendo sulla server. Perché il server non riesce a passare informazioni al suo computer, pertanto lui crasha. E infatti il mio computer è bloccato qua, non va avanti. Io ti vedo ancora nel server. Ah, è crashato. Abbiamo fatto crashare Minecraft, ragazzi. Minecraft non può continuare, ragazzi. Eh, proviamo, ragazzi. Non so, questo è quello che vedo, ragazzi. Io sono rientrato nel server e questo è quello che vedo. Abbiamo distrutto il mondo? No, io ho paura. Io voglio stare qui. Adesso vuoi vedere cosa succede? Per me abbiamo distrutto il mondo. Abbiamo distrutto il mondo che è infinito in teoria quasi. Ha una fine comunque. Si, ha una fine però. L'abbiamo distrutto, non c'è più niente, ragazzi. Questo è il mondo, ok? Non c'è più niente. Beh, degniamo degnamente Minecraft, come al solito. Mi teletrasporto a casa, come dici tu. Non va, non va, no, ragazzi. Non funziona più. Non funziona più. Non posso neanche, guardate, non posso teletrasportarmi in nessun punto. Sai che, sai perché? Perché quel punto lì non c'è più. Sì, sì, ha capito. È tutto distrutto, ragazzi. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.